Bacia. Fa che questo bacio sia il fermo immagine del nostro amore. Sarà il bacio che avrà colto l'attimo. Non fuggirà il ricordo. Dirà al mondo quanto ci amiamo. Sarà il volo verso la città dell'amore. Oui, sera Paris. Fai un selfie e postalo sulla pagina Facebook di Pescara Vecchia. La foto con più like vincerà un volo più soggiorno a Parigi. Bacia il tuo lui o la tua lei sullo sfondo del poster che troverai solo a Pescara Vecchia dal 6 al 14 febbraio nei locali aderenti e dal 13 al 14 febbraio davanti ai manifesti affissi su Corso Mantonè e Via delle Caserme. Un fantastico soggiorno nella capitale del romanticismo vi attende. Bacia, selfie e vola. Grazie.